Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolise, per il calcio di Serie C ufficiali le date d'inizio del primo turno di Coppa Italia. Fronte mercato ai dettagli l'operazione per il forte centrocampista Sonni D'Angelo che il Campobasso vuole ingaggiare. Il centrocampista Santo D'Angelo, chiamato Sonni, nativo di Palermo, è davvero vicino a vestire la maglia del Campobasso. Potrebbe essere un colpo da 90 della società americana che potrebbe assicurarsi le prestazioni di un giocatore di assoluto calibro nel panorama della Serie C. Centrocampista di qualità, fisico e carattere per diverse stagioni è stato il faro dell'Avellino con i lupi irpini e ha totalizzato circa 80 presenze in quattro stagioni. Protagonista che con la maglia della reggiana, dove ha sfiorato la Serie B chiudendo al secondo posto il campionato nello scorso torneo, poi prima parte di stagione ad Avellino, successivamente il passaggio a Crotone. Un colpo di mercato atteso dopo quelli ufficiali dei difensori Mondonico e Fort. Due centrali strutturati oltre il metro e 90 per una prima impronta che sembra andare nella direzione di un campo basso fisico e con esperienza nel torneo professionistico. Quest'ultima componente rappresentata appieno dal tecnico Braglia, che è sicuramente uno dei decani del torneo di Lega Pro. Lo stesso tecnico, che è un credente della difesa a tre nell'ultima stagione a Gubbio, ha cambiato spesso il modo di giocare con l'utilizzo di una retroguardia a quattro. Questo vuol dire che si partirà da un'idea, ma poi, come spesso capita, in base alle caratteristiche della squadra, si deciderà per la scelta migliore. Braglia crede altresì nel trequartista, un giocatore capace di offrire qualità tra centrocampo e attacco. Sul mercato, la pista nuova porta al terzino sinistro Kevin Haveri, giocatore albanese che si è diviso nell'ultima stagione tra il torneo di Serie B con l'Ascoli e quello di Lega Pro con il Catania, dove ha vinto insieme ai suoi compagni la Coppa Italia. In merito alle conferme nel reparto di centrocampo, oltre Maldonado, la società ha fatto sottoscrivere un contratto al giovane Antonello Serra, classe 2003. Il centrocampista, arrivato nel capoluogo nello scorso mese di novembre, gode della fiducia della società e dello staff tecnico ed è stato confermato ancora in rosso-blu. Ufficiale la prima uscita dei Lupi, il Campobasso sarà ospite del Giuliano nel primo turno di Coppa Italia, sabato 10 agosto alle 21. La squadra vincente affronterà una tra Ternana e Casertana il sabato successivo, 17 agosto, un vero antipasso di campionato che, ricordiamo, partirà il 24 ed il 25 agosto. Confermato il ritiro estivo a Binchiaturo, come nella passata stagione, la truppa di Braglia inizierà i lavori giovedì 18 luglio, una prima fase che si chiuderà mercoledì 31 luglio con lo spostamento definitivo in sede a Campobasso. In Serie D l'Isernia sta lavorando per regolarizzare le pratiche dell'iscrizione sul mercato, attenzione focalizzata sul pacchetto under obiettivo e mettere in piedi una squadra giovane con pochi senior da inserire nei ruoli cardine. Pattinaggio ai campionati italiani su pista di San Benedetto del Tronto, presenti Chiara Fusco e Sara Storto del centro sportivo Pattinaggio Campobasso. Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione sportiva per Chiara Fusco e Sara Storto, le due atlete del centro sportivo Pattinaggio Campobasso che hanno partecipato ai campionati italiani su pista categoria ragazzi, andati in scena dal 28 al 30 giugno presso il pattinodromo di San Benedetto del Tronto. In mezzo alla soddisfazione espressa dal presidente tecnico del centro sportivo Rita Bartolomeo e da tutto lo staff che quotidianamente segue le atlete nei loro allenamenti per prepararle al meglio a questo tipo di gare. Le due giovanissime atlete hanno portato a casa grandi risultati tenendo conto del livello complessivo della competizione, reggendo bene il confronto con le migliori atlete d'Italia. Una competizione tricolore in cui Chiara Fusco si è cimentata nella gara sprint fermando il cronometro a 33,10, un tempo che le ha permesso di lasciarsi alle spalle circa 50 ragazze. Nella gara a cronometro ad atleti contrapposti l'atleta Campobassana si è ben piazzata grazie al tempo di 21,33. Buoni risultati sono arrivati per lei anche nella prova lunga. Positiva la partecipazione per Sara Storto, anno 2010 che al di là del piazzamento in classifica generale è riuscita a dare prova delle sue qualità tecniche e fisiche sia nella gara sprint che nella cronometro ad atleti contrapposti. Prestazioni, leggermente al di sotto della sua media nella gara lunga, l'atleta era stata inserita in una batteria particolarmente veloce ed ha ceduto all'allungo delle avversarie. A chiudere definitivamente la stagione Chiara San Martino che parteciperà al suo terzo campionato italiano a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. L'atleta rosso-blu scenderà in pista nella gara sprint sui 500 metri, una cronometro ad atleti contrapposti e nella lunga sui 5000 metri. A darsi battaglia per la conquista del titolo italiano, centinaia di atleti porta a colori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale. Automobilismo ufficiale rinvio dello slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. La gara, inizialmente prevista per il 13 e 14 luglio, è stata rinviata a causa delle condizioni non idonee del manto stradale della Gildonese che necessita di interventi di messa in sicurezza. L'organizzazione è a lavoro per farsi trovare pronta alla prima data utile, non appena sarà aggiornato il calendario del campionato italiano slalom. Bocce il Molise ha ospitato nuovamente un evento nazionale, soddisfatto dell'organizzazione il presidente della FIB nazionale. Da punto di vista organizzativo è stato tutto quasi perfetto, dico sempre quasi perché la perfezione non esiste, per cui non è stato facile allestire poi il bocciotromo. Tre specialità, cioè nella stessa specialità tre eventi diversi ma legati dalla stessa fattispecie che è appunto il campionato italiano, il titolo, sia per i giovani che per le donne. Anche se è un torneo nazionale mi auguro che da quest'altrano si possa organizzare un vero e proprio campionato, sicuramente più completo di quello che è in atto adesso. E soprattutto i segniores che sono i giocatori migliori che abbiamo in Italia e che abbiamo nel mondo perché siamo leader nella raffa. Per cui dal punto di vista organizzativo non c'è nulla da dire, anzi un plauso a tutto il comitato regionale. Per quanto riguarda il livello si può anche alzare quel livello perché la raffa è spettacolare perché riguarda tutte le possibili varianti delle bocce, quindi c'è l'accosto, c'è il sopramano, c'è il sottomano, c'è il volo. È la specialità più completa, più complicata, più difficile da questo punto di vista. Anche se il volo, naturalmente a bocciare il volo, è quella più agonistica, più spettacolare. Però la raffa è molto completa, per cui le varianti sono tante e si può ottenere anche un qualcosina in più. Insomma, questi atleti potrebbero osare qualcosa di più, però sono le migliori squadre italiane, assolutamente. Qual è il messaggio che arriva dopo questa splendida manifestazione a tutto il movimento e soprattutto a chi si vuole avvicinare e praticare questa disciplina? Che con l'impegno e con l'unità di intenti si possono fare cose straordinarie per questa federazione che è accessibile a tutti, ai bambini, ai ragazzi, ai grandi, agli anziani, agli anzianissimi, ai disabili, alle donne, a tutti. Tutte le tipologie di disabilità possono praticare il gioco delle bocce, quindi in questo siamo quasi unici. Abbiamo un sociale straordinario, abbiamo tutte le caratteristiche per diventare un'immensa, una grandissima organizzazione sportiva. Dobbiamo cambiare un po' la cultura sportiva, siamo legati ancora a delle vecchie tradizioni, a vecchio modo di vedere le bocce e di giocare a bocce. Questo è sbagliato perché andava bene i tempi addietro, quindi l'impegno del Molise, se a questo impegno del Molise corrispondesse anche l'impegno di altre regioni, noi potremmo fare grandissime cose, ma non perché le altre regioni non lo facciano, però ecco una piccola regione che organizza grandissimi eventi è una soddisfazione per loro, d'accordo, ma per la federazione perché io ragiono sempre in maniera e in via unitaria. Volley, ufficiale la presenza dell'Energy Time in Serie A3, i Rosso Blu sono stati inseriti nel girone blu composto da Ortona, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Alessano, Lago Negro, Modica, Napoli, Massa Lubrense, Reggio Calabria e Sabaudia. Le gare interne si giocheranno al Palavazieri il sabato alle 18. Un triplete nella sua città per chiudere al meglio la sua carriera. Marco Santucci ha contribuito da capitano a riportare la Serie A a Campobasso. Marco Santucci, libro della Spec Devils Campobasso, si conclude una stagione esaltante. Per voi Coppa Italia, promozione meglio? Penso che non si possa fare. Sì, andrà molto bene, diciamo, a mente lucida. Diciamo che più di così non potevamo fare. Sono stati alti e bassi durante la stagione, però nei momenti importanti siamo fatti trovare sempre pronti a cospetto di compaggi, magari che erano anche leggermente più attrezziati di noi. Però fisicamente e mentalmente abbiamo sempre approcciato queste gare in maniera positiva. Oltre alla stagione che si conclude, possiamo dire anche per te la carriera sul parquet, una carriera che ti ha visto protagonista in tutta Italia, il ricordo più bello che hai? Beh, sicuramente il ricordo più bello è quello di aver vinto tutto nella mia città, un campionato e una Coppa Italia che per me è motivo di grande orgoglio, specialmente alla mia età. Però ci sono state anche magari la finale Coppa Italia a Milano con il Sora, le Sordio in Superlega, sempre con il Sora. Quindi sono magari tanti ricordi, però quello a cui sono più legato sinceramente e quello a cui tenevo di più è riportare la mia città in un parco scenico magari che non è mai stato calcato da questa compagine. Motivo d'orgoglio in più anche che sei riuscito ad importi partendo da lontano in una regione piccola. Questo è importante. Sì, forse non l'ho mai fatto. Devo ringraziare sicuramente la mia famiglia che ha sempre creduto in me, mi ha sostenuto, mi ha seguito ovunque sono andato in Italia. i miei amici più stretti, che anche loro mi hanno sempre seguito in qualsiasi categoria e tutti gli allenatori che mi hanno allenato in questi anni. C'è un messo del mio, però mi sono reso conto che sono stato anche fortunato a fare una cosa che mi piace. Ho perseguito una passione che magari non tutti hanno possibile fare questo ed è un peccato, però mi sono goduto tutto e sono stracontento di tutto. Appese le scarpette a chiodo, adesso ti dedichi anima e corpo ai ragazzi e al beach che ti piace tanto. Sì, beach è una passione che coltivo da un po' di anni. Quando sono a Campo Basso da tre anni ormai abbiamo messo su un progetto tra la Spike, il CUS e ultimamente anche la Polisportiva Riccia con i ragazzi della Pallavolo di cui sono molto orgoglioso. Quest'anno abbiamo raggiunto numeri abbastanza importanti rispetto a quelli che avevamo partiti negli ultimi anni. L'anno prossimo con la Spike faremo un progetto un po' più ampio e speriamo di collaborare con un po' di società del Molise. Un'ultima cosa, un invito a iscriversi ai ragazzi a giocare a pallavolo. Sì, il nostro obiettivo è quello di entrare nelle scuole, sinceramente. È un po' difficile in questo periodo, dopo il Covid, però faremo di tutto. Stiamo già progettando con la società il prossimo anno, ci vedremo a breve e avremo a disposizione una palestra dalle ultime news tutta per noi e quella è una cosa importante come punto di riferimento per i ragazzi e sicuramente dal risconto che abbiamo avuto in questi ultimi anni organizzando la situazione in un modo migliore le famiglie si avvicineranno ancora di più. Basket di serie A1, Marta Moscarella promossa in prima squadra la giocatrice sudamericana, grande protagonista nel torneo di serie B e vincitrice di due scudetti con l'Under 17 e l'Under 19 farà parte del roster di coach Sabatelli per la prossima stagione con la molisana Magnolia. Calcio regionale, il Comitato ha reso noto i termini per regolarizzare le iscrizioni da domani fino a giovedì 1 agosto sarà possibile presentare domanda per i tornei d'eccellenza e promozione stesso termine per le squadre che intendono presentare domanda di ripescaggio per le società di prima categoria e calcio a 5 maschile la scadenza è fissata al 5 agosto. In attesa di regolarizzare le pratiche di iscrizione le società d'eccellenza e promozione sono attive sul fronte mercato. Luglio è il mese delle firme, le società del calcio molisano sono attivissime per allestire gli organici. In eccellenza il Montenero di Gianni Borrelli prende forma grazie al lavoro del direttore sportivo Gabriele Assogna che di concerto con la società e con il neotecnico ha confermato alcuni perni del progetto Rosso Blu. Si tratta di Capitan Michele Pezzotta del bomber Gustavo Dottavio di Stefano Di Pietro e di Leo Parente. Intanto è arrivato il primo colpo di mercato il portiere Matteo Stanisci. Il classe 2005 arriva dal campionato abruzzese per lui esperienze con Fossacesia e Vastese. Il Venafro vuole recitare un ruolo da protagonista e per farlo si è affidato alle sapienti mani di mister Corrado Urbano. L'allenatore sta lavorando alla costruzione della rosa. Intanto per quanto riguarda gli uomini della vecchia guardia Fabiano Sabatino ha dato la sua disponibilità a vestire ancora il bianco-nero. A Boiano i prossimi giorni saranno decisivi per le questioni societarie. Nel pomeriggio di sabato in programma una riunione allo stadio con la Lillo si parlerà di quella che è stata l'ultima stagione e dei programmi futuri. L'obiettivo è quello di dare seguito a quanto di buono fatto fino ad oggi. Il San Pietro in valle avrà in panchina ancora mister Marco Palazzo e dopo il bel campionato della scorsa stagione vuole ripetersi. Per riuscire l'intento ha confermato il suo attaccante principe Emanuel Fraraccio. Con lui sembrano essere prossimi alla firma anche Marchetti, Pifano e Pistillo. Ha salutato il gruppo invece il portiere Michele Melfi. Scendendo nel campionato di promozione il Baranello ha cambiato presidente. A Mario Di Chiro succederà Luigi Pierno. Di Chiro resta in società con il ruolo di vicepresidente. Intanto la società continua a lavorare per allestire l'organico. Il direttore sportivo di Scienza insieme a mister Viglione ha avviato diverse trattative per rendere la rosa competitiva. A busso, dopo la salvezza conquistata nell'ultima stagione, mister Martinelli ha deciso di dedicarsi soltanto al settore giovanile. Al suo posto con ogni probabilità ci sarà Antonio Sbrocca che negli ultimi due anni ha guidato il macchia Valfortore nel torneo di prima categoria. Ma non è tutto perché il sodalizio rosso-blu ha avviato la trattativa con Eddie Cirenei che pare essere vicino all'accordo. Sarebbe un grande indesso in prospettiva per esperienza e qualità realizzative della punta ex Spinete e Trivento. Futsal, la divisione Calcio a 5 è proiettata la prossima stagione. Ufficiali le date dell'inizio. La Serie A2 Elite partirà sabato 12 ottobre. Entro il 10 luglio il Cusso Molise formalizzerà domanda di ripescaggio nella seconda serie nazionale. Alla Corte di San Gennario sono arrivati Vilmar Pereira e Gioa Isigno. La società sta valutando di ampliare l'organico con un altro innesto di livello. Nello scenario davvero bellissimo dell'Alto Molise si è svolta la quarta Gran Fondo Atene del Sannio partenza e arrivo della manifestazione nel comune di Agnone. Ne abbiamo parlato con il sindaco. Daniele Saia, sindaco di Agnone. Qual è stato l'impegno dell'amministrazione per consentire lo svolgimento di questa quarta edizione della Gran Fondo Atene del Sannio? Come ben sapete questa è ormai la quarta edizione diciamo che in parte è collaudata ma l'impegno è sempre notevole. Noi abbiamo oltre 40 volontari impegnati su tutto il percorso per questa gara chiaramente tutto l'allestimento diciamo che è un mese che si lavora la ripulitura del percorso e poi chiaramente in questi due giorni ci siamo attivati per allestire tutto questo arrivo e partenza e chiaramente ospitare in modo adeguato i ciclisti che sono venuti ad onorare questa gara. Agnone, città d'arte e di cultura quali sono gli interventi che si possono che andrebbero fatti per promuovere non solo lo sport ma anche il turismo perché eventi di questa portata fanno venire qui tantissime persone non solo atleti ma anche appassionati di mountain bike. Sì assolutamente non solo cultura non solo arte ma anche sport questa è stata la sfida amministrativa credo che la stiamo vincendo stiamo rinnovando tutte le nostre strutture sportive vogliamo dare ancora più forza a questa manifestazione molto probabilmente l'anno prossimo ci saranno delle modifiche probabilmente cercheremo di abbinare una ciclistica a una podistica quindi proprio per aumentare il numero di persone, di visitatori, di sportivi che vengono sul nostro territorio il territorio chiaramente non è solo quello di Agnone ma è l'Alto Molise se non il Molise intero Ci saranno degli interventi specifici per quanto riguarda le strutture presenti sul territorio di Agnone? Sì noi stiamo continuando comunque a migliorare la nostra struttura del campo sportivo di Agnone e speriamo di inaugurare in autunno il nuovo Palasport così come la nuova piscina poi ci sono dei piccoli interventi che faremo sui due campetti da tennis e da calcetto che abbiamo qui in Agnone quindi stiamo prestando comunque attenzione per un riammodernamento di tutti gli impianti sportivi A livello provinciale invece secondo lei quali sono gli interventi che bisogna portare avanti per promuovere lo sport per favorire lo sport nella nostra regione? Qualche settimana fa c'è stata la giornata dello sport promossa dall'onorevole Lancellotta insieme con il CONI al quale abbiamo partecipato volentieri il fatto che ci sia una giornata dedicata allo sport è un segnale di attenzione a questo mondo ben ha fatto il governo e tutti noi quotidianamente perché come dimostrano anche altre realtà vicine a noi lo sport è sinonimo appunto di turismo di vita, di socialità e soprattutto di natura e quindi noi abbiamo tutte queste peculiarità le dobbiamo utilizzare in modo appropriato chiaramente abbinandole a delle strutture sportive qualificate o riqualificate La quarta edizione della Gran Fondo Atene del Sagno come tutte le altre edizioni precedenti è una giornata di grande festa qual è la sua soddisfazione in questo senso? La mia soddisfazione è non solo quella di vedere gli atleti provenienti da ogni parte d'Italia qui in Agnone ma soprattutto di vedere questa socialità ritrovata nella cittadina dal gruppo Folk a tutte le persone coinvolte in questo movimento dall'associazione Aido ai ragazzi che sono nella struttura di montagna quindi c'è un movimento di paese e questo è quello che è bello perché unisce le forze di una piccola cittadina come quella di Agnone Domenica prossima al Parco di Viale Manzoni di Campobasso Sport e Salute Molise ha organizzato la festa dello sport estate manifestazione che rientra nell'ambito del progetto Sport di Tutti i Parchi a partire dalle 10 inizieranno le attività sportive come calcio calcio a 5 karate fitness ginnastica corpo libero posturale ginnastica dolce promosse e organizzate dalle associazioni beneficiari del progetto podismo grandissimi risultati per Mario Di Rizio l'atleta molisano di Baranello ha portato a termine la storica gara di 102 chilometri Firenze Faenza con il tempo di 11 ore e 24 minuti lo scorso weekend inoltre ottimo settantaduesimo posto su 1600 partecipanti al via Nalla Ultramaratona Pistoia a Betone gara durissima di 50 chilometri in cui ben 31 di salita quindi complimenti al nostro amico Mario Di Rizio prosegue anche in estate l'attività del Cus Molise con il campus estivo per i più piccoli Gianmarco Caraccio capo campus del Cus Molise assolutamente siete già operativi da giorni come sta andando? Alla grande alla grande diciamo che abbiamo cominciato con un bel numero circa 140 bambini tutti i settori sono già pronti 6-7 8-9 10-13 stiamo aspettando il settore dei bambini più piccoli la settimana prossima ci prepariamo con i 3-5 e niente abbiamo cominciato già con le attività quest'anno abbiamo messo il pizza day poi già da domani cominciamo con la piscina e poi altre novità come per esempio i laboratori offerti dall'università dall'unimol insomma quindi i bambini hanno spazio abbiamo anche incrementato l'area verde qui fuori proprio per i bambini più piccoli e quindi abbiamo anche investito più in sicurezza quest'anno così teniamo i bambini più a bada e niente facciamo di tutto sperando che vada tutto per il meglio e tutti siano soddisfatti assolutamente insomma per te non è però la prima esperienza già da tempo sei qui al Cusmo Lise sì sì sono 5 anni se non erro quindi mi sono trovato ogni anno sempre bene diciamo che qui non non mi fanno mancare niente cioè non posso lamentarmi assolutamente anche perché sei un ragazzo che ha voglia di fare ha voglia di lavorare chiaramente sei qui anche per motivi di studio immagino naturalmente e di lavoro poi sei rimasto prima di studio e poi di lavoro sono stato adottato dal Molise da Campobasso in particolare ho studiato qui e poi mi sono trovato appena lavorato con il Cus che mi ha dato ampie possibilità di fare e di dimostrare quello che so fare insomma assolutamente anche perché poi partire da zero e trovarsi comunque ad avere un ruolo anche di responsabilità non è da poco sì sì ho avuto anche altre esperienze oltre al Cus diciamo che le esperienze aiutano a crescere quindi benvenga tutto quello che succede e dunque continuate con questo lavoro lo farete insomma sino a buona fetta dell'estate prima della ripartenza della scuola è possibile venire e iscriversi anche in un secondo momento quando si vuole ogni volta noi ogni settimana abbiamo sempre delle nuove iscrizioni ovviamente prenderemo una piccola pausa di circa dieci giorni ad agosto per le ferragosto e poi il campus finirà con il subentro della scuola quindi diciamo cerchiamo di tenere i bambini sempre occupati o con lo studio o con il divertimento basta che fanno qualche cosa Gym Box fino a domenica gli atleti del curso molise Teresa Mascione Giulia Molinaro Alessandro D'Andrea e Lorenzo Palazzo prenderanno parte ai campionati italiani di specialità affermo i molisani cercheranno di proseguire la tradizione positiva che vuole il centro universitario sportivo del Molise sempre a medaglia nelle precedenti edizioni bene è tutto buon pomeriggio come on come on Grazie a tutti.